Io della vita che sono nel calcio, come sapete sono nato calcisticamente nell'Argentina Arma, sono fiero, potevo sempre col cuore con me. Poi Marco, giustamente, ho tre anni che abbiamo vissuto calcisticamente, mi ha prospettato questa possibilità, questo grande di venire, diciamo, a dare una mano qui a Sanremo. E onestamente ho accettato di buon grado perché volevo volare, io a Sanremo sono cresciuto, diciamo, non dico calcisticamente perché calcisticamente ho iniziato ad Arma, però sono cresciuto da ragazzo qua a Sanremo, frequentavo qua al campo e c'è stato già un momento a cui ero molto vicino a venire qua la Sanremo quando c'è ancora il carissimo Cichero, che ricordo unesamente. Perciò mi è stata prospettata questa idea e io ho accettato di buon grado perché, cioè, dopo tanti anni, diciamo, tra virgolette nell'anonimato mi piace, ho la voglia di poter riuscire un giorno a arrivare più in alto, diciamo, penso che sia l'ambizione di ogni persona. Parlo di ambizione calcistica, eh? Tutto può.